Tony ha conservato qui buona parte delle sue cose quando la Stark Industries ha chiuso. Se c'è qualcuno che sa dove è Tony, quello è Jarvis. Questa pista dovrebbe portarci all'ingresso segreto dell'archivio. Forte! Beh, è una bella giornata per passeggiare. È lo spirito giusto. Hai l'auricolare che ti ho dato? Sì! È praticamente invisibile. Allora perché sei tornato alla Chimera? Non l'ho fatto. Era lui. Quindi ha fatto scappare la Resistenza? Onestamente, non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il bestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi... Nulla. Oh! Giusto. È parecchio stretto! Attenta alla testa! Aspetta! Ti aiuto! Grazie. C'è una radura più avanti. L'ingresso dovrebbe essere lì. Ok. Quindi, Jarvis, chi aspetto ha? Come un vecchio hard disk del 1998. Ok, altra domanda. Chi aspetto ha un hard disk del 1998? Oddio. Wow. Finalmente. Vuol dire che siamo vicini. Cavolo. È sigillata. Andate un'unità di contenimento. Dr. Banner, cosa faccio? Corri. Corri! 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 Grazie per la visione! 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 A.I.M. ovunque Tu distrai Io cerco un ingresso Hanno guardi ovunque Potrebbe essere una pessima idea Merda! Stanno chiudendo tutto Sono entrata Questi condotti sono enormi Sembra che l'A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio originale È tutto nuovo A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio A.I.M. abbia costruito intorno all'ascensore A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio A.I.M. abbia costruito intorno all'artiglio Uitico Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.